cari tutti siamo giunti al termine di un anno molto difficile anche per noi in primavera ci eravamo salutati e vi avevamo invitato a condividere con noi un messaggio di speranza di verde speranza e ne abbiamo raccolti molti ed è grazie proprio a questi messaggi che abbiamo trovato l'energia e le motivazioni per reinventarci e lavorare in questi mesi abbiamo trovato nuove forme di comunicazione e di interazione con gli stakeholder abbiamo portato avanti i progetti previsti trasformandoli e grazie anche a queste nuove energie non sono mancati risultati risultati che sono andati molto al di là delle aspettative su tutti i fronti sul fronte delle nuove certificazioni sul fronte dell'interesse riscontrato da privati e da singoli cittadini verso i prodotti certificati interesse degli investitori a far sì che le foreste anche quelle italiane siano gestite sempre meglio e siano certificate fsc queste per noi sono tutte prove che nei momenti di crisi la sostenibilità può essere davvero la chiave di volta per uscire dalla crisi e affrontare le nuove sfide non ultimo un ricambio anche a livello associativo con un nuovo comitato esecutivo che traghetterà l'associazione verso i suoi 20 anni il prossimo anno da tutte queste esperienze traiamo una parola chiave un motto che guiderà il nostro lavoro per per il prossimo anno e questa parola chiave è coraggio abbiate il coraggio di credere nella sostenibilità abbiate il coraggio di continuare a investire nelle foreste e nella gestione forestale responsabile abbiate il coraggio di credere che con la sostenibilità è possibile anche raggiungere quei cambiamenti nel mondo che tutti noi auspichiamo. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato in particolare ringrazio i colleghi dello staff dell'ufficio senza di loro e senza la loro abnegazione non avremmo ottenuto questi risultati e colgo infine l'occasione per augurare a tutti delle serene feste magari più semplici del passato ma sicuramente più vere.